Salve a tutti. In questo emozionante video, vi condurrò attraverso una serie di momenti davvero epici. Nel magnifico scenario della tenuta degli Yaman, la presenza della madre di Ankar ha portato un'atmosfera di serenità e tranquillità. Attualmente, tutti i membri della famiglia si ritrovano nel salotto, concedendosi un prezioso momento di relax. Mentre Demir è immerso nella lettura del giornale, Ankar e Zuleyha conversano in modo tranquillo. La nonnina, come sempre, è seduta sul suo divano, intrattenendo conversazioni con i suoi «fantasmi» e partecipando di tanto in tanto alle discussioni con frammenti di frasi prive di senso o improvvisando canzoni senza motivo apparente. Prima di continuare, vi chiedo gentilmente di mettere «mi piace» e iscrivervi al nostro canale. Ora, però, sveleremo una sorprendente rivelazione. Vi invito ad assistere al video fino alla fine, poiché scoprirete cose che nemmeno avreste mai immaginato. In questo momento, la famiglia si trova di fronte a una situazione insolita, considerando tutte le difficoltà che hanno dovuto affrontare in questa dimora. All'improvviso, la nonnina inizia a parlare in modo diverso, come se stesse raccontando un episodio particolare della sua vita. Nel frattempo, prosegue imperturbabile nel suo racconto, viaggiando con la mente fino all'epoca in cui sua figlia era ancora piccola. Sembrerebbe quasi che quella giovane ragazza stia ancora parlano attraverso la nonnina, avvisando Ankar che la sua vita è completamente nelle mani dei genitori, i quali le proibiscono di vivere un amore considerato sbagliato. Le impediscono categoricamente di seguire la sua passione e di continuare la relazione con quel tale Fecheli, poiché non le garantirebbe alcuna sicurezza. Il padre ha deciso che da quel momento in poi non le sarà nemmeno permesso di rivolgergli la parola e che verrà cancellata completamente dalla sua vita. La nonnina, oltre a ciò, aggiunge parole offensive e insulti, sostenendo che Ankar deve obbedire ciecamente a quello che le viene imposto. Per il proprio interesse, saranno costretti a farla sposare un membro della famiglia Yaman. Non importa se lei lo ami o meno, la loro unica preoccupazione è che solo un Yaman possa garantirle la felicità. Secondo la loro visione, rendendola la matriarca di Kukurova e facendola sposare un Yaman, assicureranno una vita di privilegi. Da quel giorno, il padre e la madre hanno preso questa decisione, spegnendo definitivamente i sogni di Ankar. Mentre Ankar solleva gli occhi verso sua madre, che la guarda con dolore e incredulità per la repentina lucidità della nonnina, quest'ultima la fissa con la stessa crudeltà e durezza di un tempo passato, come se il male dentro di lei si fosse risvegliato di nuovo. All'improvviso, rompendo il silenzio, Amine inizia a cantare dolcemente, creando un'atmosfera affettuosa che tutti amano. Sembra non sapere come dissipare la tensione che si è creata nella stanza. Demir la osserva, cercando di comunicare con gli occhi, sperando di sentire parole che possano cancellare ciò che ha appena udito. Per lui, quelle parole distruggono l'immagine che ha sempre venerato di suo padre come una persona buona e potente. Le parole precise e taglienti pronunciate dalla nonnina dipingono un quadro spietato di un uomo che ha commesso abusi e violenze su una giovane ragazza, che poi è diventata sua moglie. Ancora più terribile, ha continuato a tormentarla, disprezzandola e umiliandola fino alla sua morte. Ha costantemente tradito il loro matrimonio, considerandolo solo una facciata da mostrare al mondo, mentre viveva una doppia vita fatta di avventure e infedeltà pubbliche, persino di fronte alla propria moglie. Nel frattempo, la nonnina continua a cantilenare dolcemente, mentre Ankar cerca in vano di trattenere le lacrime che le riempiono gli occhi, rivivendo quei terribili momenti. In quel momento, la nonnina viene ulteriormente umiliata di fronte a suo figlio, poiché ha sempre tenuto celata la verità come un segreto, seppellendola insieme a suo marito. Non avrebbe mai desiderato che i suoi cari venissero a conoscenza della brutta verità riguardo a chi fosse realmente suo padre, un uomo sempre pronto a tradire Ankar. Zuleya è completamente scossa e si trova in una situazione di grande incertezza, non sapendo se credere o meno alle parole che sta ascoltando. Guarda Ankar con occhi colmi di comprensione, riconoscendo che entrambe hanno vissuto esperienze simili nella loro vita. Entrambe hanno dovuto lasciar andare un amore che bruciava intensamente nei loro cuori, entrambe sono state umiliate e trattate come oggetti da uomini possessivi e potenti, ognuno con le proprie intenzioni perverse. In questo momento, una consapevolezza si accende nella mente di Demir, che si lascia trasportare dall'odio e minaccia Ankar, affermando che se non accetterà di vivere in silenzio, saranno i genitori a trovare un modo per punirla. Continua a pronunciare minacce e parole offensive verso sua madre, accompagnate da numerosi insulti, come se stesse ancora una volta affrontando una giovane ragazza indifesa. Ankar ascolta tutto ciò e continua ad assistere la sua anziana madre, sopportando il dolore che prova in quel momento. Tuttavia, comprende che entrambe condividono una somiglianza nelle loro vite. Entrambe hanno amato per tutta la vita un uomo che non hanno mai potuto proclamare al mondo intero, ma che hanno sempre mantenuto fedele quel sentimento nei loro cuori. Il video finisce qua. Iscriviti al canale e ci vediamo ad un prossimo video.